Buonasera cari signori, siamo in Terra Rosso, stiamo facendo... Ecco qua in Terra Rosso, eccoli qua in Terra Rosso, in diretta live dal vivo, eccoli qua, perfetto. Cari signori, siamo in Terra Rosso, stiamo facendo uno spettacolo dal vivo di musica popolare a Bari, Bari, Puglia, Italy. Cari signori, salutiamo il pubblico di Bari! Eccoli qua, salutiamo, salutiamo, salutiamo! Che bel pubblico! Pensate che sta piovendo e non se ne sono accorti. Però va bene, va bene così. Allora, cari signori, caro pubblico di YouTube, adesso il pubblico di Bari si esibirà nella coreografia dell'ascensore. Vai, 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 ma andate su, alzate gli ombrelli e le mani, ok? Vai, vai! Che bravi! Che bravi, bravissimi! Va, 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 se no mo' i polpacci... Ok, allora, cari signori, mi raccomando, adesso che cosa abbiamo fatto con l'ascensore? Siamo andati... e poi siamo andati... Siamo andati... e poi... Mi raccomando, al verso giusto, non al verbo...